buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina oggi vado a preparare un primo delle teste molto gustoso vado a fare un timballo di pasta farcita pasticciata diciamo con foderata di melanzane molto bene cominciamo subito con la base delle melanzane io le melanzane le ho pelate e le ho tagliate a fette di circa mezzo centimetro perché le andremo a friggere molto bene il nostro olio a temperatura io a questo punto vado a prendere le mie melanzane e fetta perfetta le andiamo a infarinare questo farà sì che si creerà una pellicola che eviterà di assorbire troppo olio e le tiriamo fuori come vedete devono essere dorate ma non bruciate mi raccomando cuociamole abbastanza bene perché sennò rischiamo che rimangano troppo callose crude che non sono buone le melanzane crude eccole qui devono essere dorate non troppo ma almeno siamo sicuri che non assorbono olio proseguiamo con la nostra ricetta io ho scelto questo questa piro questa teglina poi potete usare una pirofila l'importante che le melanzane poi siano sufficienti o leggermente unto con l'olio evo in la base molto bene adesso lo andiamo a stazionare da una parte e cominciamo a condire la nostra pasta faccio ho fatto una besciamella 1 a 6 provatele nell'info box anche la ricetta della besciamella praticamente cosa vuol dire che ogni 100 grammi ogni litro di latte ho messo 60 grammi di farina quindi la proporzione l'ho fatta circa 200 grammi adesso si è raffreddata l'ho fatta con un pizzico di sale un po di pepe e ci ho messo della noce moscata ora la vado andiamo a metterci il ragù il ragù la salsa bolognese che è quella che ho anche preparato lo vedete sul tutorial io ho usato della scamorza del prosciutto cotto buono qualche bella foglia di basilico del parmigiano reggiano adesso vado a riprendere il mio contenitore dove ho steso le melanzane e vado a riempire andiamo a rimettere un altro po di parmigiano sopra ok e ora andiamo a chiudere i nostri lembi maniera che deve diventare come uno scrigno a questo punto la vado ad infornare a 180 gradi per circa mezz'ora ci vediamo dopo molto bene siamo finalmente arrivati al capolinea la nostra pasta è pronta io l'ho fatta riposare almeno una decina di minuti minimo è come un po per le lasagne no vanno un pochino si devono assestare perché se no se le mettiamo da caldo la besciamella essendo calda si squacquera quindi lasciando riposare un po si si ferma ed è si sforma benissimo eccoci qua ora andiamo a sformare ok ora che cosa vado a fare vado a mettere un bel cucchiaino di ravù di salsa bolognese io qui ho fatto chips di scorza la buccia delle melanzane è croccantissima profumatissima buonissima è una bella idea per guarnizione non ho fatto altro che la pelle delle melanzane dopo averle tagliate con le pelate con la patate le ho tagliate a filange fini 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 le ho messe a marinare con un cucchiaino di sale dopodiché dopo due o tre ore le ho scolate le ho sciacquate le ho asciugate infarinate e fritte vi assicuro che sono fantastiche e alla fine della ricotta salata eccoci qua questa il mio questo il mio timballo di melanzane con pasta pasticciata la porzione finita vi posso garantire che è veramente eccezionale questo è il mio piatto spero che vi sia piaciuto questo video fidatevi fatelo perché è molto gustoso iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e mettere un like se tutto questo vi è piaciuto i commenti sono sempre a disposizione di tutti per poter esprimere la propria opinione e con questo vi saluto alla prossima ricetta un abbraccio a tutti ciao ciao